Il Paradiso 9, spoiler settimana fino all'11.10, Ciro vuole ospitare Mimmo a casa sua. Ciro pensa di adottare Mimmo, il figlio di un suo amico, ma Concetta si oppone e la coppia litiga. Le anticipazioni di Il Paradisi delle Signore 9 svelano che Elvira e Salvatore vivranno un momento intimo nella settimana dal 7 all'11 ottobre. Tuttavia, dopo essersi liberata, Elvira sospetta che Salvatore diventerà freddo nei suoi confronti. Mirella tranquillizzerà Elvira, ma avrà paura di vivere la stessa esperienza dell'amica. Mirella racconta ad Elvira la sua storia e Elvira sarà così appassionata di Salvatore che racconterà a Irene la sua prima volta e le chiederà di non raccontarlo a nessuno. La ragazza si vergognerà del suo fidanzato e si renderà conto che qualcosa è cambiato tra lei e Salvatore. Elvira decide di aprirsi con Mirella, l'unica persona che può comprendere le sue paure, ma parlare con lei provoca solo ulteriore scompiglio nella mente di Venus. Elvira finisce infatti per ascoltare la difficile storia di Mirella, una madre single che deve crescere il figlio da sola e ha paura di vivere le proprie esperienze. Salvatore, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di placare la fidanzata con il suo comportamento. Infatti, non si presenta tutte le mattine al consueto appuntamento con Elvira ed è tormentato dai dubbi. Ci sono anche grandi novità in Ladies Paradise con l'avvicinarsi dell'arrivo di Clara. Mirella cerca di calmare l'amica, ma non è facile. La ragazza, infatti, annuncerà presto che tornerà a Milano, e questo farà felice tutti i suoi colleghi. Questa notizia non piace a Mirella, che teme di perdere il lavoro con l'arrivo di Venere. A questo proposito, le ragazze mobilitano Mirella affinché rimanga nel grande magazzino e Roberto promette di fare tutto il possibile per la ragazza. Devi decidere dove vuoi lavorare a Palazzo Puglisi c'è un dissidio tra Ciro e Concetta, che crea un clima di tensione. Odile è a un bivio. Il capofamiglia ha ricevuto la telefonata di un amico siciliano che gli chiedeva di adottare suo figlio Mimmo, che lavora come agente di polizia a Milano. Il signor Puglisi intende informare la moglie della sua intenzione di portare a casa il ragazzo. Ma il signor Concetta è irremovibile, non voglio portare con me uno sconosciuto. Agatha porta la pace in famiglia e chiede un compromesso ai suoi genitori. Sarà una giornata complicata anche per Odile. Dopo aver ricevuto un'offerta di lavoro da Marcello, c'è da considerare anche l'invito di Marta a lavorare presso la Galleria Milano Moda. Questa decisione non sarà facile per la ragazza, ma dopo diversi giorni di esitazione, sembra avere le idee chiare sul suo futuro. Salvatore vuole ritirarsi o ha solo paura? Cosa succederà tra Salvatore ed Elvira? I due ragazzi vivono una bellissima storia d'amore nonostante le ingerenze della famiglia Gallo. Elvira però prende una decisione e preferisce Salvatore alla sua famiglia, al punto da appassionarsi a lui. Che disapprova la loro relazione. Tutto dovrebbe essere perfetto per la coppia, ma qualcosa turba Salvatore e preoccupa Elvira. La ragazza ha paura di rivivere la storia di Mirella ed è quindi preoccupata che Amato la lasci. Succederà davvero? Salvatore non sembra quel tipo di persona, ma dopo aver incontrato Elvira per la prima volta, si comporta in modo davvero strano. I miei cari sono lontani, perché? Anche se l'ipotesi che possa lasciare la fidanzata sembra inverosimile. Non si può escludere che Salvatore abbia semplicemente molta paura di intraprendere una relazione seria con lei. In passato, infatti, Amato ha vissuto diverse grosse delusioni amorose. Quando si è allontanato dall'altare insieme a Gabriella, lei ha sostenuto Cosimo e lo ha lasciato in un mare di lacrime. La stessa sorte toccò qualche mese dopo, quando Salvatore sembrò aver trovato in Anna la sua anima gemella. Amato sposò una donna che aveva una figlia dal suo primo marito, Quinto, che lei credeva morto. La situazione si complicò quando Quinto tornò dal Venezuela, affermando di essere sopravvissuto alla tempesta. Riconoscendo l'amore che lega ancora Quinto e Anna, Salvatore fa un passo indietro, separandosi dalla moglie.